Lui è una celebrità nazionale, lo conoscete tutti e lo ringrazio tantissimo della sua presenza, ma non tutti sanno, a parte quelli che frequentano gli ambienti magici, che lui è non solo un grande artista performer, è uno storico d'eccezione della magia, possiede una collezione fra le più complete d'Italia, se non forse la più completa d'Italia, di testi magici, di libri sulla storia della magia. Quindi stasera io lo presento con un grande piacere e conosceremo degli aspetti che ancora non conoscete di questo straordinario Raúl Cremona! Ciao Raúl! Allora tu hai scritto anche diversi libri, tutti molto interessanti, io qui sotto mano per esempio Raúl Cremona Lemulo di Bosco, ma ce ne sono altri. Hai stato il primo questo qua? Questo è proprio il primo, abbiamo scritto insieme a Francesco Mugnai e poi c'è la collaborazione anche di Alex Rusconi. Sì certo, dopo andiamo a scoprire tutte le correlazioni che ci sono fra te, il mago Jordan e Alex, naturalmente nulla è per caso e neanche voi tre siete qua per caso. Fra l'altro Francesco Mugnai che è editore del Florence Art, poi speriamo di averlo anche come ospite in una delle prossime puntate, perché con lui hai scritto anche elementale, la magia bianca risvelata, la magia di Odaba, l'arte della prestidigilizzazione, il grande Zirmani e so che ce n'è uno anche di prossima pubblicazione. Non è manco un altro, i maravigliosi secreti e il gabinetto magico di Raúl Cremona. Quando è che esce? Ma c'è uno nuovo che uscirà breve, si chiama, il titolo originale era Boscarie, in realtà è l'archivio segreto di Raúl Cremona, uscirà molto presto, adesso col fatto del coronavirus siamo un po' indecisi sul momento, anche perché sarebbe bello presentarlo in una convention, però sappiamo tutti che i congressi sono un po' fermi, forse speriamo nel congresso di Walter Rolfo che sarà a ottobre e quella potrebbe essere una buona occasione per presentarlo. Speriamo, speriamo bene. Ma a proposito, quindi troviamo un Raúl che è un esperto della storia della magia e ci parli un attimo anche degli inizi, di come inizia la magia italiana. Allora, intanto ci terrei a precisare che sono stato forse il primo in Italia, non voglio dirlo io, a pubblicare dei libri che oltre a spiegare dei giochi di prestigio hanno anche la volontà di divulgare un pochettino la storia della magia. Tutto questo avviene pescando dentro i miei libri, alle mie raccolte, che sono tanti. Nell'arco di questi anni ho deciso di raccogliere un po' di tutto. È passata mia moglie in mezzo a... L'hai fatta apparire! L'ho fatta apparire! Ormai la magia funziona da sé! Sì, adesso si apparirà. Sì, e niente, ti stavo dicendo che tutte queste cose raccolte in questi vari libri sono e provengono dalla mia collezione personale. Per esempio, adesso vi vorrei far vedere questo documento rarissimo, che si vede un po' abbastanza. E' un quadro che raccoglie il repertorio di 30 giochi e il retro, eccolo qua, e possiamo vedere la firma che si trova in questo punto qua, è Antonio Grassi. Eccolo qua, Antonio Grassi. Di che epoca qui parliamo? Qui stiamo parlando di un emulo di Bosco, nel senso che è ripassata, avete visto, è apparsa. Stiamo parlando del periodo di Bosco, cioè Bosco è attivo nella prima metà dell'Ottocento, chiaramente è il più grande prestigiatore italiano, contemplando anche Antonio Pinetti, però poi ci sono tutta una serie di prestigiatori che hanno avuto e che hanno scritto la storia della prestigiatore italiana. Uno di questi è Antonio Grassi, che nasce come emulo di Bosco, nasce a Reggio Emilia e poi, molto giovane, assiste agli spettacoli di Bosco, decide di emularlo. Molti si mettono a ridere perché dicono che non è possibile, in realtà lui nel 1823 presenterà a Reggio Emilia uno spettacolo nel quale dimostrerà veramente di essere all'altezza, di emulare Bosco. Da lì comincerà una carriera lunghissima di prestigiatore che lo porterà in giro per il mondo e otterrà i successi e le soddisfazioni simili a quelle di Bosco. Interromperà la carriera perché ci sarà la morte della moglie, accetterà di fare un lavoro da impiegato, ma molto presto scoprirà che non è portato per fare un lavoro d'ufficio e ritorna a fare il prestigiatore portando con sé il figlio, gira il mondo e poi muore verso i 60 anni e fino a poco tempo fa era possibile mirare la tomba che si trovava a Reggio Emilia o a Modena, forse a Modena. Adesso esiste solamente l'arco, Rusconi potrebbe dirci molto di più. Grazie Raul, è molto interessante conoscere la vita dei personaggi minori di un'epoca. In effetti la storia normalmente si concentra solo su macro tematiche e quindi si va sempre a parlare dei personaggi più noti di ogni epoca, mentre invece c'è molto da scoprire e da sapere di curioso anche sui personaggi minori. Ne hai un altro da presentarci? Un altro personaggio che mi sta molto a cuore è Enrico Longone in arte frizzo, che è nato a Milano, ebbe una triste sorte, però abbia anche un grande successo. Fu il primo ad introdurre, penso in Italia, forse anche nel mondo, le ombre cinesi in uno spettacolo di magia. Le ombre le aveva prese da Piero Campi, che era un pittore importante, che aveva anche scritto alcuni libri su come realizzare le ombre cinesi, quelle che si fanno con le mani. Hai presente? La cosa bella è che mi capitò di lavorare in un teatro, sai che non mi ricordo, che aveva il rosone centrale del teatro dipinto da Piero Campi. Pensa a te com'è la storia, magari la gente non lo sa, però quando mi hanno detto che era Piero Campi l'ho collegato subito a Enrico Longone in arte frizzo, che morì molto giovane, perché partì per una tournée all'estero, in Sud America, non si seppe più nulla di lui, perché in Italia non riusciva a continuare la professione, e dopodiché si perdette qualsiasi contatto. Si dice che morì in un ospedale psichiatrico a Montevideo, e da allora non si seppe più nulla. Questa è una storia molto triste perché è stato un grande personaggio, ha scritto un libro bellissimo che si chiama Frizzi Mephistofedici, anche narrato nell'unico libro che ti voglio mostrare, che è L'Occultismo in trappola, eccolo qua, L'Occultismo in trappola di Alessandro Fiaschi, è l'unico libro che parla un po' di maghi italiani. Ma ci parli in un minutino di questa grande collezione, perché mi stavo proprio chiedendo da dove arrivano tutte queste dettagliate informazioni, e so che tu hai un'estesa collezione di libri antichi sulla magia. Allora, io ho cominciato a collezionare circa vent'anni fa materiale inerente alla prestigiazione, soprattutto manifesti, puoi vedere sul retro per esempio un bellissimo manifesto di Bustelli, adesso te lo ha, eccolo là. Braviglioso, wow, è grandissimo, stupendo. Questo è grande perché era uno dei manifesti che Bustelli usava in teatro, ne aveva tre di queste dimensioni molto belle, ce n'è un altro, non so dove ce l'ho. E poi ho cominciato a raccogliere libri, ma anche stampe, tutto quello che riguarda la prestigiazione. Poi, scrutando fra queste pagine, trovi questi aneddoti, anche se dobbiamo essere sinceri, non c'è molto da raccontare sulla prestigiazione e non è stato mai molto raccontato sulla prestigiazione italiana. Tutto quello che c'è, soprattutto, è molto francese, è molto americano, anche se gli americani hanno una storia breve, perché la storia degli americani parte dall'inizio dell'Ottocento e va in su. Sono più concentrati sulla prima parte del Novecento, invece noi abbiamo una storia antica e lunga, però tutte le nostre cose sono perse, sono difficili da trovare. È verissimo. Noi ci cerchiamo, nel nostro piccolo, di recuperare questo vuoto e grazie davvero di cuore. Abbiamo cominciato a dare ai nostri spettatori un piccolo assaggio di quello che è l'artista Raul Cremona, al di là del personaggio televisivo che tutti conoscete. Proprio per questo vi voglio dedicare un piccolo video di questo dietro le quinte, perché vi porteremo fra poco a parlare come Raul Cremona interagisce nel mondo della magia e della prestigiazione, quindi non solo come artista, ma anche come conferenziere. Grazie a tutti. Questo video è sicuramente un video che gli spettatori non avevano mai visto, a parte quelli che ovviamente hanno assistito a conferenze. Ma ci parli di Raul Conferenziere? Allora, tanto bisogna dire che io cominciai a fare conferenze molto presto, stavamo parlando magari dei primi anni Ottanta, perché io arrivai praticamente al CMI nel 1973, dopodiché, dopo aver visto un po' tutto quello che c'era in quel mondo, cominciai ad esibirmi. Ma ci misi parecchio tempo, passarono almeno una decina di anni. Per dieci anni sono stato semplicemente un turista della magia, un appassionato. Poi cominciai a fare conferenze, perché è una strada da percorrere per uno che fa la mia professione, quella del prestigiatore. E sono andato avanti a farlo fino all'altro ieri, perché mi piace raccontare, spiegare e tramandare, trasmettere soprattutto ai giovani la passione, perché solamente quella, tu mi insegni, può darsi la possibilità di intraprendere questa carriera, capisci? Tutto quello che ti posso dire è che cerco di fare sempre delle conferenze che siano accattivanti, mescolando la passione per la storia e la tradizione dell'illusionismo. È molto bello questo, è un'ottica di condivisione la tua, ed è fantastico che io ho assistito alle tue conferenze più volte, e sono sempre interessanti, c'è sempre una chicca, qualcosa di nuovo. Perché dovete sapere che Raul, ad ogni congresso magico, è da seguire perché lui arriva sempre con una novità, ti fa sempre vedere l'ultimo gioco, l'ultimo effetto. Una volta ci si trovava al Crest Hotel, a Bologna, nelle riunioni nazionali del club magico italiano. Ti ricordi, Raul? Allora, posso aggiungere che l'ultimo congresso tenuto a Bologna fu presentato da me, al Crest Hotel. Dopodiché il CMI si spostò direttamente ad Abano Terme, non so per quanti anni. E poi non ci è più capitato di essere al Crest Hotel, ma a me è capitato, un anno fa o due anni fa, di fare una convention al Crest Hotel. Quando ci sono entrato dal di dietro, ho fatto come un tuffo nel passato, perché io mi ricordo di quelle bellissime riunioni che presentava Fabian, ti ricordi? Ah, caspita, poi ne parliamo di Fabian. Faceva la lettera di Silvan, e la cosa malinconica, se così possiamo dire, è che il teatro è tale quale, è rimasto com'era. Sono noi che siamo cambiati, sono i tempi che sono cambiati, sono i maghi che non ci sono più, ci sono quelli che invece hanno cambiato mestiere, ci sono quelli che invece continuano a farlo e quello che è triste da dire è che i muri, le poltrone, le luci ci sopravvivono e i maghi continuano a cambiare. Però i muri, le poltrone, le luci hanno sicuramente assorbito un po' di energia di quei maghi che sono passati di lì. E poi parliamo anche di questo passaggio generazionale fra la magia di ieri e di oggi e lo facciamo anche insieme poi a Jordan e ad Alex, che naturalmente fra un attimo li chiamiamo. Ma abbiamo parlato prima di un Raul che non avevate mai visto, era il Raul conferenziere. E se io vi dicessi che noi abbiamo una chicca ora da mostrarvi di un video, di un Raul che non solo non avete mai visto, ma proprio non avete mai, ma proprio mai e mai visto. E addirittura sospetto che in realtà questo video non l'abbia mai visto neanche lui. Ah, cacchio, sono curioso. Ce lo facciamo dire. Ce lo facciamo dire. Guardalo e poi lo commentiamo insieme. Signore e signori, ladies and gentlemen, Raul Cremona! Raul Cremona! Grazie a tutti. Grazie a tutti. A uno di quei soci che aveva delle opportunità diciamo economiche di creare un appuntamento importante e affittò questo teatro a Bustassizio e a me affidarono la parte di aprire lo spettacolo. Cioè prima che lo spettacolo cominciasse a sipario chiuso io dovevo uscire e fare il mio numero con gli anelli cinesi e non era una cosa facile perché mi trovo di fronte a un pubblico con il sipario chiuso dietro. La musica senza parlare per me era veramente una sofferenza però mi ricordo con piacere quell'evento. Sono passati tanti anni. Soltanto che Copperfield ancora non c'era a quei tempi. Copperfield almeno apparve non dico ma almeno una decina di anni dopo. Quindi chiaramente si può affermare che David Copperfield è un mio emulo. L'ho inventato io? Nel senso che se mi becca me la fa. Silva rideva ed ero uno osavo essere un pochettino come si dice un po' sfrontato. E questa era una caratteristica della magia che avevo scelto di fare. La mia magia era caratterizzata ed è caratterizzata da un aspetto soprattutto empatico ma anche divertente. Le ne do un saggio anche se qui non si può fare. Non è un gran tema. Guarda qua. Cosa vedi? Allora questo qui è una papera. È una papera? Guarda osservo attentamente. Senza vengo verso di te così e faccio semplicemente questo e voilà. Ed è diventato un coniglietto. Wow. Quindi da papera a coniglio. Ma si può fare anche da coniglio a papera? Sì anche però è meglio non farlo adesso perché altrimenti la gente capisce il trucco. Dili a Copper. E poi le papere è meglio lasciarle agli altri. Dili a Copper se mi faccio di fare certe cose. Ma quando mai? Ascolta hai parlato anche di Clam. Cioè diciamo cos'è perché così introduciamo insieme il presidente attuale ma tu sei stato presidente prima di lui. Io sono presidente onorario del Clam e sono stato presidente prima di lui poi lo annuncerai. Il Clam Artea Magica è un circolo che ha una sua tradizione. Fu fondato da Pierino Pozzi che fu un grande artista del Varietà. È uno dei personaggi più importanti della storia dell'illusionismo italiano. Un personaggio che va ricordato. Insieme ad altri personaggi come Alberto Sitta fondarono penso credo anche il CMI. Lui fu il pioniere del nostro circolo che adesso raccoglie almeno un centinaio di soci. E che nel corso del tempo ha avuto vari presidenti tra cui Baio Torino. Poi c'è stato Vanni Bossi. Poi la presidenza è passata a Pecar. Poi è passata a me. Adesso è a Jordan. È un circolo uno dei più belli. Abbiamo una sede bellissima che si trova nella fabbrica delle campane a Milano. Quindi è una sede storica molto importante che è una tradizione che è una storia. Ed è molto bello. Abbiamo un nostro teatrino, tanti soci e tanta passione per l'illusionismo. Chiamiamo insieme il presidente? Sì. Lo annuncio io? Dai. Signore, il presidente del clan, Jordan. Con un video di presentazione. Vai. Ci vediamo dopo Raul. Stai lì, eh? Ci vediamo dopo, sì. Grazie a tutti e due ragazzi. Veramente di cuore. Ma ci manca il nostro Raul da richiamare. Eccolo qui. Ecco, guarda qua che meraviglia. La vedi questa? Cos'è questa cosa? Questo è un fular di Silvan. Una volta l'ha lasciato in camerino e mi ha detto L'ho usato. Tienilo pure. Non l'ho mai lavato. Ed eccolo qua. Guardate che meraviglia. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Eh, eh, oh. E veniamo al sodo. Eccolo qua. Questo è Raul. È lui, è lui. Grande. Bene. Hai visto che Jordan ha l'aureola? Jordan ha l'aureola intorno al cuore. La testa. Piero. Ho diventato da mano santo. Ho diventato un santo. Bellissimo questo ventaglio, tra l'altro. Jordan, grazie di cuore. Grazie Alex. Ci vediamo presto. Mi raccomando, li dobbiamo rivedere e ritrovare qui. No, Raul, aspetta salutare tu perché tu sparisci un attimo dopo di loro. Ecco, loro vanno adesso con un colpo magico. Io vorrevo che insieme guardassimo un clip della sezione Le mie illusioni, una cosa che abbiamo fatto insieme a Zelix Circus tanti anni fa. Guardala e poi la ricomentiamo insieme. Traista, ancora un attimo con noi. Ti ricordi, Raul? Sarà stato il 2006, credo. Quindi stiamo parlando di 14 anni fa. 14 anni fa sono volati, tra l'altro. Ti devo raccontare un aneddoto che hai visto, naturalmente, il fatto che io mi sia presa con te, tu sai benissimo, che faceva parte del racconto autoriale che gli autori avevano. Ma hai creato un caso. Eh, purtroppo sì, perché dovete sapere che gli autori, Gino e Michele, ci hanno chiesto che io facessi la parte di quello arrabbiato con Silvano, il mago di Milano e quindi con Raul. Quindi io volutamente ho detto, he's an idiot, ma questo faceva parte ovviamente del copione. E' un po' esagerato, però. Purtroppo mi è scappato una parola, io mi sono immedesimato un po' troppo nell'inglese e mi è scappato una parola che non era il massimo dell'eleganza televisiva, ammetto. Devo dirti che la verità è che sono stato ripreso dal maestro. Posso, posso dire, posso dirti che sicuramente ti avrei detto, attenzione, eh, ti ho visto nella trasmissione televisiva nella quale tu purtroppo ti sei lasciato andare ad alcuni commenti alquanto pesanti che ti squalificano come artista, soprattutto nei confronti di Raul Cremona che io considero un personaggio degno della tua stima, la stessa stima che io ho nei tuoi confronti, giusto? Ma tu eri, ma stavi ascoltando la telefonata Raul, come è possibile? È vero, il nostro grande Silvan, il grande maestro che è un carissimo amico di entrambi e che salutiamo e che speriamo davvero ci conceda l'onore di essere ospite in questa trasmissione modesta, lui veramente abbiamo un rapporto molto bello e ci dà consigli e mi ha detto e ha fatto benissimo a fare l'osservazione, a dirmi esattamente nello stile che Raul ha accolto, perché lui ha detto che effettivamente avevo esagerato, che non era parte, non era elegante dire questa cosa e io gli ho dato totalmente ragione e ringrazio. Tu lo sai che lì funzionava così, c'era sempre questa voglia di trasgressione, era un po' quel periodo televisivo che funzionava in quel modo. Esatto, era così, l'hanno chiesto, io ci sono andato un po' pesantino anch'io e mi sono preso giustamente il rimprovero del maestro. Giusto. Giusto. Un saluto allora. Raul, grazie di cuore, ci hai fatto un dono enorme, però ti riaspettiamo la prossima volta per parlare di Bustelli, perché mi hai curiosito quel poster, tra l'altro io colleziono poster, questo qua non ce l'ho, quindi se ne hai un altro poi li trattiamo sotto banco. Molto bello, molto bello. È una meraviglia. Ciao a tutti e si salami, ciao. Ciao Raul, grazie ancora.